Una voce incredibile di un parolano italiano, di musica rock, che sta diventando sempre più sfigato. Quindi un grandissimo applauso a un maestro. Mi stagione dei ministri di orie? Asiate! Ora, ne vogliamo parlare? C'è qualcuno che mi dice No, ma i ministri non sono più quelli di prima, l'ultimo disco è commerciale. Raga, l'ultimo disco dei ministri è Stupendo, punto, ma fa culo. Non diciamo, ragazza. È benissimo. Giusto? All right. Forse che te libera Asi continua 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 Asi continua